Quasi come una Marcord, i piloti di un tempo gareggiavano con i loro fiammanti veicoli tra le strade strette e tortuose della penisola italiana dove salite, discese, frenate al limite e curve pericolose mettevano a dura prova gli organi meccanici dei bolidi e il fisico e la mente dei guidatori e dei tecnici. Ancora oggi, lontano dai circuiti automobilistici, quelle stesse strade offrono lo stesso spettacolo di un tempo. È evidente la passione di Gianvito Schena, pilota monopolitano che da alcuni anni partecipa alle gare di cronoscalata riportando risultati rusinghieri. Si è distinto alla Fasano Selva, al circuito Magione, alla cronoscalata del Reventino, al trofeo del Levante e dalla Coppa della Sila. Da qualche anno ho intrapreso quella che era una mia passione sin da bambino, sono arrivato a farla diventare realtà, quindi partecipo ad alcune gare all'anno di cronoscalata e gare di velocità in salita, alcune fanno parte del campionato italiano a velocità montagna. Sono gare di velocità che però si corrono su strada, quindi le normali strade che vengono chiusi al traffico in occasione della gara. Quindi rispetto alle gare in pista richiedono parecchia esperienza perché spesso quando si va a correre non si conosce bene il tracciato su cui si percorrerà la gara, per cui richiede un attento esame della strada, del tracciato per conoscere tutte le particolarità, le curve, i tornanti, i punti di frenata, i dislivelli e quant'altro. Quindi richiede molta accortezza e memoria, non solo velocità, non è solo correre nel senso muovere e girare un volante ma richiede un certo approccio molto particolare rispetto alle gare in pista. Una passione per i motori che lo porta ad affrontare gare di endurance molto dure ed estremamente tecniche. Nel Palmares anche un cappottamento in gara senza conseguenze ed un paio di ritiri per problemi tecnici.